La condanna degli otto imputati condannati in primo grado e dei due assolti sono le richieste del sostituto procuratore generale di Palermo, Maria Teresa Maligmo, al processo di appello scaturito dalla doppia inchiesta Alicon Assedio, che ha delineato un intreccio di mafia, politiche e massoneria deviata nell'Agrigentino con ramificazioni nel territorio nisseno. In primo grado, il primo giugno dell'anno scorso, il GUP di Palermo decise otto condanne e tre assoluzioni. La pena più alta, vent'anni di reclusione, fu inflitta ad Angelo Occhipinti, 66 anni, già condannato per mafia e distorsione e ritenuto il nuovo capo della famiglia di Licata. 12 anni a Raimondo Semprevivo, 48 anni, imprenditore Dile, condannato con l'accusa di essere il braccio destro del boss. Quest'ultimo era accusato, oltre che di associazione mafiosa, anche di un episodio di tentata estorsione in concorso con lo stesso Occhipinti. 12 anni anche a Giovanni Mugnos, bracciante agricolo, 54 anni, ritenuto l'alter ego di Giovanni Lauria, altro esponente di spicco di Cosa Nostra nell'Agrigentino, imputato in un altro stralcio. 10 anni e 8 mesi a Giuseppe Puleri, 41 anni, imprenditore, ritenuto componente della famiglia mafiosa di Campobello di Licata. Sotto la lente di incrandimento dei giudici, le attività illecite nei territori dell'Agrigentino, che avevano anche delle ramificazioni, come si diceva, con il territorio onisseno, che riguardavano gli illeciti più gravi, come lo spaccio di sostanze stupefacenti, le estorsioni e le intimidazioni agli imprenditori.